Oggi vi spiego quali sono gli elementi che compongono una vetrina. Allora, di qualsiasi tipo di merceologia e di qualsiasi fascia di prezzo di appartenenza del prodotto che viene ovviamente venduto in questo punto vendita, ogni vetrina è composta da quattro elementi. Ovviamente la merce, quindi i prodotti che decidiamo di esporre all'interno del nostro spazio, l'attrezzatura, l'attrezzatura sono i tavoli, le strutture, i manichini se si tratta di abbigliamento, comunque di quegli elementi che ci servono a portare alla giusta altezza perché siano ben visibili chiaramente i prodotti che decideremo di esporre. Il terzo elemento è la decorazione e il quarto è lo spazio utile. Lo spazio utile non è altro che uno spazio vuoto che ci deve essere in ogni vetrina in quanto questo spazio ha la funzione di velocizzare e migliorare la memorizzazione dell'insieme della vetrina da parte del cervello attraverso i nostri occhi. Entriamo nello specifico. Quindi dicevo, tutte le vetrine devono avere questi quattro elementi, quando non troviamo uno di questi quattro elementi la vetrina è tecnicamente sbagliata, quindi manca la decorazione, è una vetrina sbagliata. C'è troppa poca merce? Ce n'è troppa? La vetrina è sbagliata. Manca lo spazio utile, quindi è stata riempita l'inverosimile la vetrina? È una vetrina sbagliata. Non ha più senso oggi sentire ancora, e spesso mi capita, commenti del tipo, ah ma lei non sa perché qua nella nostra città i clienti sono difficili e vogliono vedere tutto in vetrina. Non è assolutamente vero. Noi umani con tutto in vetrina non vediamo assolutamente nulla e soprattutto non ci rimane memorizzato niente in testa. La decorazione. La decorazione è un elemento fondamentale nella composizione della vetrina. Innanzitutto la scelta del tipo di decorazione deve venire fatta da simboli, da situazioni, da elementi che siano di facile codifica, nel senso elementi che tutti riconoscano indipendentemente dalla lingua e dall'etnia della persona che sta guardando ovviamente la vetrina. Vi faccio alcuni esempi. Se io metto un babbo natale di carta pesta posso essere di qualsiasi nazione del pianeta, parlare qualsiasi lingua, ma guardando quella vetrina capisco che ciò che è stato esposto e adatto al periodo natalizio. Quindi la scelta del simbolo deve essere ovvia, se vogliamo, quindi molto popolare, facilmente riconoscibile. L'originalità sta nella realizzazione o nel come ho realizzato il simbolo che mi comunica un determinata stagionalità, un determinato periodo, una determinata funzione del prodotto che metto. Se non metto la decorazione, vi dicevo poco fa, la vetrina è sbagliata. A cosa serve la decorazione? La decorazione serve a catturare l'attenzione anche delle persone più distratte e soprattutto il cambio frequente e repentino, il cambio che deve essere fatto almeno una volta alla settimana, massimo ogni 15 giorni in una vetrina, non può durare più di quel periodo, serve a far capire anche a lunga distanza, io posso transitare con la macchina davanti alla vetrina del mio negozio, vedo che è cambiato qualcosa, è cambiato l'elemento decorativo, sono cambiati i colori e quindi il messaggio che arriva al cervello è che è arrivato qualcosa di nuovo. Poi possono essere le stesse identiche cose che io ho tolto dalla vetrina che ha finito il suo periodo, la sua funzione. Le rimetto in maniera diversa nella stessa vetrina cambiando la decorazione, la scenografia, il colore del fondale e questo prodotto viene percepito dalle persone come fosse il prodotto nuovo. Quindi non voglio più sentire, ma non ho cambiato la vetrina perché non mi è arrivata merce nuova, avete i negozi pieni di merce che hanno bisogno di essere esposti in maniera corretta, hanno bisogno di vedere la luce della vetrina per essere viste. La decorazione può essere stilizzata, può essere una scenografia, può essere quello che più vi piace, l'importante è che attiri l'attenzione, che faccia fermare qualche secondo in più, il tempo medio della visione di una vetrina è di 40 secondi, quindi un tempo molto breve, l'allungare di qualche secondo la permanenza davanti alle nostre vetrine dei passanti. Lo spazio utile è altrettanto fondamentale, dedicherò un video solo alla spiegazione tecnica di questa percezione. I miei amici clienti ottici sono facilitati perché sanno meglio di me come funziona l'occhio umano, ma non sempre lo riconducono alla loro vetrina e quindi non si ricordano spesso di lasciare questo spazio utile. Per il momento vi basti sapere che va lasciato, ci deve essere un momento di vuoto, di non pieno, dove l'occhio insieme al cervello per come funziona non riescono a vedere meglio, a facilitare questo tipo di memorizzazione. Spero di essere stato chiaro, vi do appuntamento al prossimo video con altre spiegazioni, con altre tecnicità. Grazie a tutti, a presto! Grazie a tutti!